di gustave flaubert madame bovary voce di lorenzo pieri terza parte capitolo primo parte seconda la sera emma scrisse al giovane un'interminabile lettera nella quale si disimpegnava dall'appuntamento e affermava che tutto era ormai finito non avrebbero dovuto per la felicità di entrambi incontrarsi mai più ma quando la lettera fu chiusa si accorse di non avere l'indirizzo di leon e si trovò in grave imbarazzo gliela consegnerò io stessa si disse verrà di certo l'indomani leon sul balcone davanti alla finestra spalancata si lucidò canticchiando le scarpe facendole risplendere indossò pantaloni bianchi calze sottili una giacca verde inzuppò con tutti i profumi che possedeva il fazzoletto poi dopo essersi fatto pettinare si spettinò per conferire alla propria pettinatura una elegante naturalezza è ancora troppo presto pensò guardando l'orologio a cucù del parrucchiere che segnava le nove lesse un vecchio giornale di mode uscì fumò un sigaro percorse tre strade e pensando che ormai fosse il momento si diresse lentamente verso il sagrato di notre dame era una bella mattinata estiva le argenterie brillavano nelle botteghe degli orefici e la luce che scendeva obliqua sulla cattedrale traeva bagliori dagli spigoli delle pietre grigie uno stormo di uccelli volteggiava nel cielo turchino intorno alle guglie a trifoglio la piazza eccheggiante di grida profumava per i fiori che fiancheggiavano il lastricato rose gelsomini garofani narcisi e tuberose intervallati senza ordine da macchie di verde umido di erba gattaria e di centocchi per gli uccellini nel mezzo gorgogliava una fontana e sotto gli ombrelloni fra le zucche disposte a piramide fioraie dal capo scoperto avvolgevano nella carta mazzolini di violette leon ne comperò uno era la prima volta che comperava fiori per una donna e aspirandone il profumo il petto gli si gonfiò di orgoglio come se l'omaggio destinato ad un'altra persona si fosse di riflesso esteso anche a lui ciò nonostante temeva di essere veduto ed entrò quindi risoluto nella chiesa lo scaccino in quel momento stava sulla soglia al centro del portale di sinistra sotto un quadro raffigurante la danza di marianna con il pennacchio in testa lo spadone che gli arrivava al polpaccio la bacchetta in pugno più maestoso di un cardinale e risplendente come un santo ciborio si diresse verso leon e con quel sorriso di falsa benignità proprio degli ecclesiastici quando interrogano i ragazzi disse il signore non è di queste parti il signore desidera vedere le curiosità della chiesa no rispose leon da prima si aggirò per le navate poi uscì per dare un'occhiata alla piazza emma non arrivava salì nel coro la navata si rispecchiava nell'acquasantiere colme con la estremità delle ogive e una parte delle vetrate il riflesso dei dipinti spezzandosi sui bordi dei marmi continuava poi più lontano sul pavimento simile ad un tappeto variegato la luce vivida che penetrava attraverso i tre portali aperti si allungava in altrettanti enormi raggi luminosi all'interno della chiesa di tanto in tanto in fondo passava un sagrestano facendo davanti all'altare la genuflessione obliqua dei devoti frettolosi i lampadari di cristallo pendevano immobili nel coro ardeva una lampada votiva ad argento e dalle cappelle laterali dagli angoli bui della chiesa si udivano talvolta a sfuggire sospiri e sotto le alte volte si ripercoteva l'eco del rumore di una grata che ricade leon camminava con aria grave vicino ai muri la vita non gli era mai sembrata tanto bella fra poco avrebbe visto arrivare emma affascinante agitata spiando dietro di sé gli sguardi che la seguivano con il suo abito a volanti l'occhialino d'oro le scarpette minuscole tutti quei particolari eleganti di cui lui non aveva finora avuto modo di godere e con l'ineffabile seduzione della virtù che soccombe la chiesa era pronta ad accoglierla come un gigantesco salotto le volte si inclinavano per raccogliere nell'ombra la confessione del suo amore le vetrate splendevano soltanto per illuminarle il viso gli incensieri ardevano perché lei potesse apparire come un angelo avvolta nelle volute profumate e ancora non arrivava si mise a sedere su una sedia e gli occhi gli si posarono su una vetrata turchina dove si vedevano alcuni marinai che portavano dei canestri rimase a guardarli a lungo con attenzione contò le scaglie dei pesci e i bottoni delle giubbe mentre i suoi pensieri erravano alla ricerca di emma un po più in là lo scaccino si indignava dentro di sé per questo individuo che si permetteva di ammirare da solo la cattedrale gli sembrava che si comportasse in maniera mostruosa che in un certo senso lo derubasse e commettesse quasi un sacrilegio ma ecco un fruscio di seta sulle lastre del pavimento l'ala di un cappello una pellegrina nera era lei leon si alzò e le corse incontro emma era pallida camminava in fretta legga disse porgendogli un foglio o no e di scatto ritirò la mano entrò nella cappella della vergine dove si inginocchiò contro una sedia e si mise a pregare il giovane si irritò per questo capriccio bigotto eppure non potei fare a meno di subire il suo fascino vedendola nel bel mezzo del convegno così perduta nelle orazioni come una marchesa andalusa ma ben presto incominciò ad annoiarsi perché non la smetteva più emma pregava o piuttosto si sforzava di pregare sperando che dal cielo scendesse qualche improvvisa ispirazione e per facilitare l'aiuto divino si empiva gli occhi con lo splendore del tabernacolo aspirava il profumo delle lunarie bianche fiorite nei grandi vasi e prestava orecchio al silenzio della chiesa il quale non faceva che accrescere il tumulto nel suo cuore emma si rialzò e stavano per andarsene quando lo scaccino si avvicinò rapidamente dicendo la signora non è di queste parti vero la signora desidera vedere le curiosità della chiesa e no esclamò leon perché no disse emma si aggrappava per salvare la sua virtù tentennante a tutti i pretesti alla vergine alle sculture alle tombe allora per poter procedere con ordine lo scaccino li ricondusse fino all'entrata sulla piazza dove mostrò loro con la canna un gran cerchio di se il cinere senza iscrizioni né incisioni ecco disse con grande solennità la circonferenza della bella campana di ambuaz pesava 40.000 libre non ce n'era un'altra uguale in tutta europa l'operaio che la fuse ne morì di gioia andiamo disse leon il bravo uomo si rimise in marcia poi arrivato alla cappella della vergine stese un braccio in un sintetico gesto dimostrativo e più orgoglioso di un signorotto di campagna che mostra i suoi frutteti di sé questa semplice lapide ricopre i resti di pierre de bréset signore della varin e di brussac gran maresciallo di poitù e governatore di normandia morto nella battaglia di montlery il 16 giugno del 1465 leon si mordeva le labbra e scalpicciava e a destra questo gentiluomo tutto bardato di ferro su un cavallo che si impenna e suo nipote lui de bréset signore di breval e di monchowet conte di molevrier barone di moni ciambellano del re cavaliere dell'ordine e anche lui governatore di normandia morto il 23 luglio 1531 una domenica come dice l'iscrizione e qui sotto quest'uomo che sta per scendere nella tomba rappresenta esattamente la stessa persona non è possibile vedere una più perfetta rappresentazione del nulla non è vero la signora bovaghi prese l'occhialino leon immobile la guardava senza neanche più tentare di dire una parola o di fare un gesto tanto si sentiva scoraggiato di fronte a questo duplice partito preso di charles e di indifferenza l'inesorabile guida continuò vicino a lui questa donna inginocchiata e in lacrime è la sua sposa dion de poitiers contessa di bréset duchessa di valentino a nata nel 1499 e morta nel 1566 e a sinistra quella che ha un bambino in braccio è la santa vergine e adesso si voltino da questa parte ecco le tombe degli ambuaz sono stati entrambi i cardinali e arcivescovi di ruo questo era ministro di re luigi dodicesimo ha fatto molto per la cattedrale nel suo testamento ha lasciato 30.000 scudi d'oro per i poveri e senza fermarsi sempre parlando li spinse davanti ad una cappella ingombra di inginocchiatoi e spostandone qualcuno scoprì una specie di masso che sarebbe anche potuto essere una statua mal riuscita un tempo questa adornava alla tomba disse con un lungo gemito di riccardo cuor di leone re d'inghilterra e duca di normandia furono i calvinisti signore a ridurla in questo stato per malvagità l'avevano seppellita sotto il seggio episcopale di monsignore ecco guardino questa è la porta che conduce appunto alla sua abitazione procediamo e ammiriamo le vetrate della gargui ma leon tirò fuori rapidamente una moneta d'argento dalla tasca e afferrò emma per un braccio lo scaccino rimase strabiliato senza capire il perché di una così intempestiva munificenza quando restavano ancora per il forestiero tante cose da vedere perciò lo richiamò e il signore il campanile il campanile tante grazie fece leon il signore sbaglia è alto circa 440 piedi nove meno della grande piramide egiziana è tutto in ferro fuso leon fuggiva perché gli sembrava che il suo amore dopo le due ore o poco meno in cui si era immobilizzato nella chiesa simile alle pietre minacciasse ora di svanire come fumo su per quella specie di tubo mozzo di gabbia oblunga di camino bucato che aveva il coraggio di elevarsi al di sopra della cattedrale come il tentativo stravagante di un calderaio fantasioso ma dove andiamo domandò emma senza rispondere continuò a camminare a passi rapidi e la signora bovary stava già immergendo il dito nell'acqua benedetta quando sentirono dietro di loro un ansito affannoso accompagnato dal rimbalzare ritmico di una canna leon si voltò signore cosa c'è e riconobbe lo scaccino il quale portava al braccio tenendoli in equilibrio contro il proprio ventre una ventina circa di grossi volumi rilegati alla rustica si trattava delle opere che parlavano della cattedrale imbecille borbottò fra i denti leon slanciandosi fuori della chiesa un monello giocava sul sagrato va a chiamarmi una carrozza il ragazzo partì come una palla di schioppo e imboccò rue des quatre ans rimasero soli per qualche minuto uno di fronte all'altra un po imbarazzati leon veramente io non so se devo faceva la ritrosa poi aggiunse compunta è molto sconveniente e lo sa che cosa ribatte il giovane di studio a parigi si usa e queste parole come un argomento inoppugnabile la decisero frattanto la carrozza si faceva aspettare leon temeva che emma volesse rientrare in chiesa finalmente arrivò uscite almeno dal portale nord gridò loro dietro lo scaccino che era rimasto sulla soglia potrete vedere la resurrezione il giudizio universale il paradiso il re david e i dannati nelle fiamme dell'inferno dove andiamo signore domandò il cocchiere dove vuole disse leon spingendo emma nella vettura e il pesante veicolo si mise in moto discese rue grand pont attraversò place des arts il lungo fiume napoleone il pont neuf e si fermò di botto davanti alla statua di pierre corneille vada avanti fece una voce che usciva dall'interno la carrozza ripartì e lasciatasi indietro l'incrocio la faiette imboccò la discesa e grazie a quest'ultima entrò al gran galop nella stazione ferroviaria no vada diritto gridò la stessa voce la carrozza uscita dai cancelli arrivò ben presto sul viale e proseguì ad agio fra i grandi olmi il cocchiere si asciugò la fronte mise il cappello di cuoio fra le gambe e guidò la vettura al di là dei viali laterali sulla riva del fiume vicino all'erbetta seguì il fiume sull'alzaia pavimentata con ciottoli a secco e proseguì a lungo dalla parte di usl oltre le isole ma d'improvviso si slanciò con impeto attraverso quatre mains sottville la grand chaussée rue del boeuf e fece la terza fermata davanti al jardin des plantes vada avanti gridò la voce infuriata riprendendo subito la corsa la carrozza passò per sanseverre per il lungo fiume dei corandier per quello alle meule attraversò di nuovo il fiume poi la piazza de chandemare e giunse dietro i giardini dell'ospedale dove vecchi vestiti di nero passeggiavano al sole lungo una terrazza tutta verde di edera risali boulevard bouvril percorso il boulevard sauchoise poi tutto il mont riboudé fino alla salita di de ville tornò indietro senza meta né direzione vagabondò a caso la civile a saint paul all'escure a mont gargant alla rue gemar e in piazza del garbardois in roma la drerre in rue dinanderie davanti a san romain san vivian san maclou san niqueze davanti alla dogana alla basse vieille tour ai trois pips e al cimitero monumentale ogni tanto il cocchiere da cassetta lanciava alle osterie sguardi disperati non capiva quale furia locomotoria spingesse questi individui a non volersi più fermare ci provò qualche volta ma subito sentì dietro di sé esclamazioni di collera frustava allora con tutta la sua energia le due rozze tutte sudate senza curarsi dei sobbalzi che li facevano traballare di qua e di là infischiando se ne di tutto demoralizzato e quasi piangente di sete di fatica e di malinconia e al porto in mezzo ai carri e ai barili nelle strade agli angoli delle vie la gente apriva tanto d'occhi di fronte a questo fatto così straordinario in provincia una vettura con le tendine accostate che riappariva di continuo più chiusa di una tomba e sballottata come un bastimento una volta a metà pomeriggio in aperta campagna nel momento in cui il sole dardeggiava con più accanimento contro le vecchie lanterne argentate una mano nuda passò sotto le tendine di tela gialla e gettò fuori dei pezzetti di carta stracciata che si dispersero al vento e caddero lontano come farfalle bianche su un campo di trifoglio rosso tutto in fiore poi verso le sei la vettura si fermò in un vicolo nel quartiere bovoison e ne discese una donna che si allontanò con il volto coperto e senza voltare la testa